Queste immagini sono quello che provoca la malattia quando si è a un stadio avanzato. Sono stato operato due volte per levare le fistole e una volta all'interno per lavorare sull'intestino e togliere due sono formate le stenosi e salvare quello che era da salvare e più le fistole interne. Non è solamente aggare degli orrori ma anche del male perché fa un male fisico molto forte e psicologico perché bisogna metterci dei panolini come le donne. Ascessi, perforazioni, fistole sono le conseguenze del morbo di Crohn. Una malattia infiammatoria cronica dovuta a una pessima collaborazione fra sistema immunitario e flora intestinale che colpisce 6.000 persone in Svizzera. Franco Rossi, 56 anni, di Giubiasco, residente nel Canton Vaux, si ammala nel 2004. Da allora la sua vita è un calvario, non solo per le tre operazioni subite. E questo panolino, quando c'è una crisi violenta devo mettere anche tre sangue e pus a correre sulle gambe. Dunque ci sente anche male perché in più trapassando i panolini passano anche i pantaloni e sembra che non abbiamo avuto il tempo di andare al bagno. Lei quante volte deve andare in bagno in un giorno? Quando tutto va bene vado 5-6 volte. Quando sono in crisi posso andare fino a 14 volte in bagno. Mi sveglio anche di notte per andare in bagno. Se mangio qualcosa che non accetta il mio corpo, la mia malattia, sono dei crampi che possono dare fino a anche tre giorni e non mi lasciano nemmeno dormire. È una malattia che non dà treguas? No, è cronica e praticamente ce l'avrò per tutta la vita. Viso scavato, corpo scheletrico. Da quando si è ammalato Rossi ha perso 18 kg. Prima che il morbo lo colpisse, lavorava con compiti di responsabilità nell'industria elettromeccanica. Oggi è un invalido in AI. Ho smesso di lavorare perché stavo troppo male, perdevo peso, non riuscivo a mangiare delle nausee. È difficile accettare la malattia così perché la qualità di vita sociale è cambiata. quale cose che potevo fare prima, oggi non posso più farle. La passione per i motori, qui lo vediamo giovane e forte assieme a Clay Regazzoni, le settimane bianche, le feste, tutto spazzato via dalla malattia. E a farne le spese è stata anche la vita di coppia. Cos'è cambiato in seguito la malattia nella vostra vita di coppia? Molte cose. Non possiamo più andare a cena dagli amici. uscire con loro. È cambiato molto perché è sempre in bagno e dunque è difficile andare da qualche parte. Uscendo dall'ospedale non ho voluto un'infermiere a domicilio. Ho preferito curarlo io. Il mattino disinfettavo le sue piaghe, lo bendavo. A mezzogiorno e alla sera la stessa cosa. Senza contare che appena avevo finito dovevo pulire il bagno per i microbi e i batteri. Anche nell'intimità sono cambiate molte cose. Molto. Come si dice volgarmente in francese, per alcuni mesi non ho potuto toccargli il sedere come avrei voluto perché faceva troppo male. Anche lui non aveva più voglia di spogliarsi davanti a me o di lasciare la luce accesa in camera da letto. O anche che facessimo la doccia insieme, cosa che prima accadeva molto spesso. è molto spesso. Una vita prima e una dopo il morbo di Crohn. In mezzo, l'affannosa ricerca di una terapia con un percorso a dir poco sfortunato. Gli antinfiammatori contro il morbo di Crohn appartengono principalmente alla famiglia degli anti-TNF, dall'inglese Tumor Necrosis Factor. Rossi inizia la cura nel 2005 con l'IMUREC, un farmaco poco costoso pagato dalla cassa malati. Il MUREC era una pastiglia che all'inizio sembrava funzionare, ma che in seguito gli ha provocato una pancreatite acuta. L'ho trovato in sala, steso a terra, distrutto dal mal di pancia. sono andata all'ospedale con lui. Ho avuto giusto il tempo di parcheggiare la macchina e quando sono tornata lo avevano già intubato. Se non avessimo reagito subito non avrebbe passato la notte, ci avrebbe lasciato la pelle. Nel 2006 Rossi passa al REMICAD, assunto ogni sei settimane via Flebo in ospedale. Costo 4.800 franchi a seduta, pagati dalla cassa malati. Con il REMICAD mi sono trovato un po' tra la vita e la morte. Ho fatto quattro allergie e l'ultima non riuscivo nemmeno più a muovermi, neanche a muovere gli occhi, ero paralizzato sulla sedia. Terza opzione, nel 2008, Lumira. Pagate dalla cassa malati, le iniezioni mensili costano 1950 franchi. Sfortunatamente per me Lumira era come bere un bicchiere d'acqua, non faccio nessun effetto. Nel 2009 Rossi si rivolge a uno specialista, il professor Pierre Michetti. Esperto nella cura del morbo di Crohn, il gastroenterologo ha lavorato ad Harvard prima di aprire uno studio a Lausanne. L'ultimo farmaco a disposizione per curare Rossi è il Cimzia. Le iniezioni, 1741 franchi al mese, 200 in meno dell'Umira, funzionano. Il Cimzia era la migliore, ma anche l'ultima alternativa disponibile. L'altra sarebbe stata un'operazione chirurgica estremamente invasiva, con l'applicazione di una tasca esterna permanente. L'effetto di Cimzia è stato eccellente, visto che tutte le fistole, tutti i buchi con il pus che colava dal retto alla pelle, così come le diarree, i dolori addominali, la febbre, ogni sintomo che manifestava era scomparso grazie a Cimzia. Tutto si era chiuso, la remissione era veramente completa. la remissione completa della malattia. Con il Cimzia fisicamente mi sentivo meglio, visto che ho avuto tanti anni di sofferenze per questa malattia e mi sentivo rivivere. Una rinascita di breve durata perché Rossi si trova di fronte a un nuovo ostacolo. Il Cimzia figura nell'elenco delle specialità pubblicato dall'Ufficio federale della salute pubblica con una limitazione importante. Per la malattia di Crohn il farmaco è omologato per sei mesi al massimo, poi la cassa malati non è più obbligata a pagare. E infatti l'assicurazione Intras del gruppo CSS comunica a Rossi che scaduti i sei mesi non pagherà più il farmaco. Una beffa. Prattutto è stata già una frustrazione che non appaiono. Poi vedendo che un medicamento che ho preso una volta costa circa 200 franchi in più e adesso questo chichi mi fa effetto che costa 200 franchi in meno non me lo pagano, è un'aberrazione. Non riesco a capire. Il medicamento è più buon mercato e mi fa del bene e me lo pagano. Quattro che non mi fa niente che è più caro e lo pagano. Non so, è un controsenso. Trovo che sia stupida. Una decisione stupida. Perché lui avrebbe meno dolore e noi avremo una vita migliore. Avremo una vita normale ciò che adesso non abbiamo. Perché bisogna essere sempre pronti. Devo sempre avere con me degli antibiotici e delle bende. E poi vedere mio marito contorcersi dal dolore a terra perché senza i medicamenti ha male di pancia. È ridicolo. Giudizi severi condivisi anche dal professor Michetti che in gennaio scrive alla Cassa Malati chiedendo di poter prolungare le cure col CIMSIA. La risposta della CSS è categorica. Sulla base delle raccomandazioni del nostro consigliere medico constatiamo che il CIMSIA figura sulla lista delle specialità con una limitazione particolarmente severa che non può essere superata. Quindi non possiamo fare alcuna eccezione. È vero che il trattamento con CIMSIA figura nella lista delle specialità come riconosciuto dalle casse malati per al massimo sei mesi. Ciò che è inadeguato rispetto a una malattia cronica. Si tratta di una decisione vecchia presa dopo i primi studi su questa malattia effettuati su un periodo di sei mesi. Da allora abbiamo una lunga esperienza su questo farmaco e sappiamo che si può prolungare la cura in modo efficace e sicuro. La risposta dell'assicurazione è mal documentata. Il testo standardizzato non fa che ripetere gli articoli di legge e regolamenti. Non c'è nessun commento specifico alla situazione del paziente che si trova di fronte a un'assenza di alternative. inoltre avevo aggiunto che il cimzia era meno caro rispetto ai farmaci che aveva assunto in precedenza. Come avviene in questi casi la risposta della cassa malati è fondata sul parere preso sulla carta senza visitare il paziente di un cosiddetto medico consigliere e qui c'è un altro problema. Penso che essendo il professor Michetti uno dei migliori dottori in Europa se non al mondo visto che ha lavorato non solamente in Svizzera sulla materia di Crohn ma in America e va a tutti i congressi ha chiamato a tutti i congressi e non ho ascoltato per me il medico di una cassa malati non so come può andare contro una decisione di un professore così. È inconcepibile. Nel caso specifico si tratta di un medico generico che svolge il ruolo di consigliere da molti anni rispetto alla sua esperienza ma non credo che possieda il livello di competenza per poter prendere una decisione illuminata in un caso così complesso. Mendrisio ufficio del farmacista cantonale siamo venuti qui con una domanda per legge la cassa malati era obbligata a seguire le indicazioni contenute nell'elenco delle specialità oppure volendo l'assicurazione avrebbe potuto pagare il CINZIA malgrado la limitazione di sei mesi. Sì, la cassa malati potrebbe pagare comunque questo farmaco c'è un articolo di legge che è entrato in vigore il mese di marzo di quest'anno che fissa le condizioni e le condizioni sono la malattia deve essere grave può avere un esito letale oppure provocare danni gravi e cronici non ci devono essere alternative terapeutiche efficaci e quindi si tratta di valutare esattamente questi due aspetti è una valutazione che oggi sulla base di questo articolo deve fare la cassa malati e poi decide se paga e quanto paga l'articolo è stato introdotto in marzo quindi dopo la richiesta di prolungamento delle cure da parte del professor Michetti e formalizza di fatto il contenuto di alcune sentenze che hanno fatto giurisprudenza per legge dunque la cassa malati poteva pagare il farmaco al signor Rossi ma ad alcune condizioni peraltro tutte presenti sono veramente tutte presenti e allineate come su un filo è una malattia cronica è una malattia grave le conseguenze per il paziente erano pesanti il trattamento esiste e per altre malattie l'uso di cimzia non è limitato a mio avviso la sicurezza a lungo termine di questo farmaco è stata accettata da Swissmedic c'è solo questo limite di sei mesi per la malattia di Crohn dunque era esattamente nello spirito della legge consentire questa terapia ma torniamo a Rossi che dopo il no della cassa malati ha dovuto interrompere in febbraio le cure con il cimzia poco dopo la situazione precipita dopo aver interrotto il cimzia ho subito un'operazione che sicuramente è legata alla mia alle punture che facevo che non ho più avuto e ho dovuto farmi levare 25 centimetri di intestino che aveva fatto una stenose praticamente era di gomma quel pezzo lì si è trattato di un ricovero con un intervento chirurgico importante fattura per il paziente e per la cassa malati circa l'equivalente di tre anni di cimzia penso che nessuno abbia fatto un buon affare economico ma prima di tutto è stata messa in pericolo la salute di questo paziente infliggendogli sofferenze importanti ora avete interrotto un trattamento che corregge tutti i sintomi del paziente poco dopo la situazione è tornata come prima o peggiorata si è tentati di concludere che è l'interruzione di cimzia ad aver provocato tutto questo costo delle cure chirurgiche circa 40.000 franchi abbiamo chiesto spiegazioni alla cassa malati che ha rifiutato la nostra intervista in una mail la css si limita fra l'altro a precisare il rifiuto di pagare il farmaco è chiaro e legale dallo scorso gennaio abbiamo ricevuto una richiesta di prolungamento da parte dell'assicurato ma nessuna richiesta da parte del suo medico tuttavia siamo pronti a riesaminare il caso qualora il medico curante ci fornisca informazioni supplementari la risposta mostra di nuovo la loro scarsa conoscenza di questi farmaci e di questa malattia quando un paziente ha delle complicazioni infettive come è avvenuto quasi subito dopo aver interrotto il farmaco non può essere trattato dal punto di vista medico è impossibile non potevo fare una seconda richiesta nel mezzo della tempesta quando non potevo utilizzare il farmaco dal momento in cui il paziente è uscito dalla tempesta quando dopo l'operazione ha cominciato a rimettersi ho presentato una nuova richiesta spedita pochi giorni fa alla cassa malati perché oggi è di nuovo in una situazione in cui può essere curato e adesso cosa succederà se la cassa malati continuerà a non pagare il farmaco aspettando la nuova risposta della CSS ai rossi restano poche alternative rivolgersi ai tribunali o sperare in un miracolo come sarà il nostro avvenire io non lo so perché è appena stato operato ma la sua salute peggiora sempre di più e allora mi dico che se continua così noi due non arriveremo insieme alla pensione il rischio è che la mia vita si raccorcia perché? perché la malattia di Crohn praticamente ci mangia continua se adesso la malattia avanza a quel ritmo che ho avanzato adesso tagliamo 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 in certi momenti i intestini da tagliare non ce ne sono più pensa che senza questo farmaco in futuro la vita del signor Rossi possa essere in pericolo? beh sì penso che ci sia una piccola possibilità appena avuto una fistola enterovescicale che è una complicazione grave che può portare a una setticemia che anche i nostri giorni può finire male dunque penso che questo paziente possa avere delle complicazioni che potrebbero metterlo in pericolo che potrebbero potrebbero metterlo in pericolo a Grazie a tutti.